A seguito dell'entrata in vigore della legge in materia di alcol e problemi all'alcol correlato, il Comune di Battipaglia con apposita ordinanza vieta dal 20 dicembre 2018 al giorno 6 gennaio 2019, in tutti i luoghi dove si tengono manifestazioni afferenti alle vestimità di Natale e di Capodanno, la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici. Le bevande in tali contenitori possono essere consumate all'interno dell'esercizio stesso e depositate al termine del consumo negli appositi contenitori per rifiuti posizionati dentro il locale. È consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.